Bella a tutti ragazzi, chi vi parla è Ferro Ale e sono qui a presentarmi, a presentarvi perchè sviluppo sempre questo mio nuovo vlog, il primo vlog che farò, diciamo che quando succederà qualcosa di importante su youtube, sui giochi, nuove uscite, così farò dei vlog Oggi volevo presentarvi un argomento che riguarda youtube, hanno inserito un nuovo sistema per il rilevamento del copyright, insomma se anche una persona tiene un secondo, proprio un secondo di un qualcosa di cui non ha i diritti, non è che gli si chiude il canale, gli viene segnalato il video prima di tutto e non può monetizzarlo, quindi non può guadagnare, ma visto che a me ne frega di guadagnare, mi cazzo, e quindi diciamo è solo un problema per chi vive di youtube insomma, perchè molte volte vengono inserite queste musiche di sottofondo, giochi, errori del terzo tipo, però non sono dei segnalamenti che non chiudono il canale, questo è un bene perchè ci sono dei ban invece molto grossi che al terzo ban, al terzo, senza preavviso ti chiudono il canale, e questo può essere un male per molti di grandi canali youtube che si ritrovano anche con 700, 800, 1000 iscritti che si vedono chiudere dalla notte alla mattina e io spero tanto che questa cosa venga migliorata perchè assolutamente non mi piace perchè queste cose servono per intrattenere e perchè dobbiamo limitare le nostre capacità di youtuber solo per uno stupido copyright che ci potrebbe chiudere anche il canale io mi chiedo, sono al telefono lol, non rispondo, e da qui è tutto, ferroale, commentate, iscrivetevi, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, passate dalla descrizione perchè vi dico cosa fare, e io da qui, da ferroale, qui è tutto e ci si becca al prossimo video